Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video! Oggi sono in una location un po' speciale perché sono con me due persone speciali. Facciamole arrivare le mie sorelle! Eccole qua! Allora ve le presento, Ilaria e Camilla. Ciao! Abbiamo deciso di girare questo video perché me l'avete chiesto una volta su Instagram e niente abbiamo pensato che poteva essere interessante rispondere a un po' di curiosità e io avevo piacere anche di farvi conoscere meglio le mie sorelle visto che comunque le nomino spesso e ogni tanto le intravedete anche nelle stories. Ho raccolto una sessantina di domande da parte vostra, quindi sono tante e cercheremo di rispondere al numero più alto possibile però non ve la prendete se magari non rispondiamo proprio alla vostra. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella in modo da ricevere una notifica ogni volta che uscirà un suo nuovo video. E se non lo fate già, seguitela su Instagram, lei è Martina Tazza. Cominciamo! Piovono Giugio le chiede Cosa cucineresti ognuna delle tue sorelle per farla felice? Allora, a Ilaria cucinerei una sacchera o comunque qualcosa di dolce e a te Camino. Dai, è facile. Succedimento, pasta alla matriciana. Oh, ok. Diario di un'aspirante mamma scrive tre parole per descrivere la vostra infanzia. Unione, gioco, viaggi. Angela chiede, anche voi sorelle di Marti amate leggere e scrivere come lei? Siete bellissime. Tanto grazie. Grazie, sì. Allora, io amo leggere, ma scrivere no. Ho provato ad avere dei diari da ragazzina, ma non li importo mai avanti. Non sono... no, non è da me. Io non amo leggere. La pecora nera della famiglia. Però scrivere scrivo cose personali. Proprio un diario è un buon strumento di sfogo. Giuliana o Giuliana, non so come si pronunci, chiede cosa vi tiene così tanto unite, cosa vorreste dell'altra, cosa volete dell'altra che ha, insomma qualcosa che invidiamo, ecco a una sorella, a una famiglia bellissima, grazie. Allora, ci tiene unite il fatto che secondo me siamo abbastanza vicine d'età e quindi siamo cresciute insieme, abbiamo condiviso sia l'infanzia che l'adolescenza, anche se nell'adolescenza ci siamo un po' allontanate, e poi l'età adulta. E poi credo anche l'educazione che abbiamo ricevuto che ci ha fatto sempre tenere uniti, anche se ci allontanavamo fisicamente, siamo abituate a sentirci per telefono, ad aggiornarci, ad avere, insomma, condividere le esperienze, eccetera. Questo ci tiene, mantiene il rapporto vivo. Per quanto riguarda le cose invidiamo dell'altra, dite voi. Allora, io di entrambe loro, il seno, perché con me madre natura sarceggiava di risorse, diciamo. Ma io direi la spensieratezza della Camilla, quando mi dicono, ma la tua sorella piccola com'è? Io dico, è un po' tra le nuvole. Questo sì, ogni tanto ci vuole. Allora, Karl Katia chiede, siete bellissime, con chi hai più interessi delle tue sisters? Allora, sicuramente condivido più interessi con la Camilla, perché ci piacciono un po' le stesse cose a livello anche di film, di esperienze, poi lei si è trasferita a Firenze, invece Camilla comunque è rimasta qui e quindi ogni tanto, se ci vediamo anche più spesso, condividiamo un pochino di più gli interessi, però, insomma, niente di esagerato, ecco, non è che con lei la escludiamo. Luci BR8, il prossimo anno la Katia farà la damigella, porterà le fedi a tua sorella e a tuo cognato, che è qui dietro, e tu? Allora, io posso dire che farò da testimone insieme a quest'altra ragazza qui, è bellissimo perché è la prima volta per me, insomma, di essere la testimone, la damigella, d'onore, non so come si dice, comunque noi si dice testimone. E sì, chiaramente porterà le fedi, sì. Giulia, che tipo di rapporto avete? Vi confidate proprio tutto tra di voi? Sì, sì, sì. Praticamente sì. Dannato nome utente, scrive, viaggi di famiglia, quello con più ricordi? Più di uno. Ne abbiamo fatti tantissimi. Francia? Sì, in Francia siamo stati tante volte. Irlanda? L'Irlanda è il viaggio più recente di tutti insieme, tutti e cinque, perché crescendo comincia a diventare difficile, e siamo stati a Londra, che è stata la prima volta in aereo per la nostra mamma, quindi un'emozione doppia. Anche per me, mi sa, può essere la prima volta, mi sembra di sì. Paola chiede, avete qualche gelosia fra di voi? No. 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 No, no, basta. Rorò, 17, 11, un pregio e un difetto di Martina. Non ho difetti, quindi vai. Difetti come la direbbe la mamma un po' struzzina a volte. Io direi una testona allucinante. Esattamente. Se pensa una cosa non gli fai cambiare idea. Esatto. Notare che hanno iniziato tutti da di te. No, una cosa, io dico una cosa che è un pregio e un difetto allo stesso tempo. Non ha pelli sulla lingua, quindi delle volte permette veramente di rivalerti, di farti giustizia. Esatto, di farti giustizia, cosa che io la invidio per questo e però a volte anche di verità scomode. Troppo direi. Sì, il pregio anche io direi questa forza di difesa nei confronti di tutte le persone a cui vuole bene. Sì. Qual è per voi, chiede la stessa ragazza di prima, il valore aggiunto di avere delle sorelle? Io non ne ho. Allora, noi non abbiamo provato a vivere senza sorelle perché io, cioè, a due anni è arrivata lei e quando ne avevo quattro è arrivata lei. Quindi comunque siamo sempre state in tre praticamente. Per noi è il pregio. Parlando con persone che non hanno fratelli o sorelle potrei dire il confidarsi, il avere l'appoggio. L'appoggio, sì, la compagnia. Io una cosa che vedo con la Katia adesso è che le manca un po' di compagnia. Io so invece quanto era facile far passare le ore tutti i giorni, tutti i pomeriggi con due sorelle con cui condividere i giochi, le attività. Questo per quando sei piccola. Quando sei grande il rapporto con un'amica è comunque diverso da quello con una sorella. Sì. È sempre più profondo. Sì, è qualcosa in più, diciamo. Booktube96, mia amica ha chiesto Avete mai litigato per un ragazzo? No. A parte per Gabri. No, no, non abbiamo mai litigato. Anche perché avevamo proprio amicizie diverse, gusti diversi. Gruppi diversi, sì. Sempre la stessa ragazza chiede Avete mai fatto un viaggio tutti insieme? Sì, sì, com'è andata? Se no, vi piacerebbe? Noi tre da sole? No. Da sole sole no. Si è fatto io e te a Prada. Siamo andate, sì. Sì, perché loro sono andate con l'autobus. Con il fixbus. L'ixbus, no? Comunque è stata una vacanza bellissima. Sì, è vero. Sono state molto belle. Però l'unica volta che eravamo noi tre c'era l'intruso Riccardo Andrini. Dove eravamo? Oh, è vero, a Paros. Ah, a Paros, è vero. È vero. È vero. Quindi una volta in Grecia eravamo noi tre con il mio maritino però sole sole non l'abbiamo fatta. Ci piacerebbe. Però ci piacerebbe, sì. Ogni tanto viene fuori, tra l'altro, questa cosa. Potremmo fare che crescendo diventa sempre più difficile però ci proveremo. Odette chiede Come vi immaginavate a quest'età quando eravate piccole? Io completamente diversa da ora. Innanzitutto sposata e probabilmente anche con già qualche figliolo. però maestra. Sì, maestra, sì, infatti volevo dire. Io penso più o meno ho realizzato quello che era un po' il mio sogno, cioè ho un lavoro che mi piace e ho una figlia volevo avere una figlia prima di 30 anni l'ho avuta a 30 anni, quindi ottimo sono sposata e ho mantenuto un buon rapporto con tutta la famiglia siamo ancora molto uniti, eccetera quindi sono... ho rispettato, sì. Ma io non lo so da piccola non ho mai avuto il desiderio ad esempio di un determinato lavoro è una cosa che mi è venuta un po' nel corso degli anni nel passare del tempo ho capito cosa volevo fare sicuramente io invece al contrario mi vedevo single che comunque mi ci ha voluto un po' per trovare l'amore però per il resto... E quindi comunque un po' diverso per voi Sì, forse sì, un po' diverso. Penelope senza telaio chiede vi siete mai rubate fidanzati? o vi è caciuto lo stesso ragazzo? No, come prima Sandra, domanda banale siete sempre andate d'accordo anche nel periodo adolescenziale? Assolutamente No, io ho fatto delle litigate epiche con lei Sì, ci siamo anche scannate Sì, sì Io invece ero quella più in disparte Tra le lunghe Io cercavo di fare da pacere però non ci siamo mai vergognati a chiederci scusa e a rappacificarci cioè sono state litigate pesanti proprio urla che sono durate anche giorni però non... Poi ci mandavamo i bigliettini sotto la porta Esatto Io ti perdono perché nessuna delle due aveva torto Esatto perché quando si litiga si ha tutti e due torti e tutte e due ragioni Questa penso sia una domanda per voi Maddalena chiede volete avere figli? Sì Certo Sempre Maddalena Ilaria è molto complicata la facoltà di scienze della formazione primaria se l'hai fatta? Sì l'ho fatta e no, non è complicata è lunga perché dura cinque anni c'è da studiare come in tutte le università però è fattibile se sei motivata non ci sono problemi ce la farai molto bene Simona chiede chi di voi tre è la cocca di papà e chi quella della mamma? Allia Tutta è tosta Allora la mia idea è che io sono la cocca del babbo e te sei la cocca della mamma Ah Io di non c'è Ok Molto desiderato Non mi sento la cocca di tutte e due Non lo so Non lo so sinceramente No dai comunque non è una cosa evidente Cioè sono più anche se secondo me non è evidente è più caratterialmente che te somigli più al babbo e te somigli più alla mamma mentre io sono la via di mezzo quello è vero però secondo me è proprio cocca di No vabbè non ci sono preferenze ovviamente però io sì c'è più feeling ma magari è una cosa del genere Irene chiede Siete mai state gelose invidiose una dell'altra io di mia sorella no ma rancore sì e mi dispiace Allora questa domanda più o meno l'abbiamo detto prima che non c'è mai stato una gelosia ma una gelosia importante ovvio che siamo state da piccole può essere dai gelose di a lei ha permesso di fare questo e a me no non si può mettere lo scollo esatto esatto questa è stata una cosa per esempio che c'è stata da piccole lei è cresciuta più in fretta aveva un fisico più formoso rispetto al mio quindi la mia mamma era un pochino più severa nell'abbigliamento con lei rispetto che con me quindi o con me perché mi fa sempre è stata super magra niente di esatto e quindi magari lì un po' di gelosia c'è stata però erano tutte cose anche legate all'età quindi sono passate e rancore idem cose che abbiamo covato dentro no dispiace quando succede però il consiglio che mi potrei dare a qualcuno che prova questi sentimenti con la propria sorella proprio fratello visto che ci soffri in questo caso mi rivolgo a te comunque se ci state male la cosa migliore è parlarne quindi cercare di far capire che questo sentire questo sentimento quindi questa situazione che state vivendo non vi fa bene e cercare di trovare una soluzione insomma un punto di incontro ecco perché uno deve andare avanti senza rimpianti e senza rimorsi secondo me Chiara chiede avete un tatuaggio che vi lega sì ce l'abbiamo certo a Camilla si vede bene invece lei ce l'ha dietro il collo un regalo vuoi dirlo sì è un regalo che ho fatto io per Natale di due anni fa e ci tenevo a farlo perché l'avevo trovato era proprio adatto a noi era proprio perfetto ci siamo tre parti di un intero ecco praticamente niente questo tra un coso l'altro Natalie chiede anche Hilary e Camilla sono lettrici quali generi prediligono abbiamo detto che lei è più lettrice lei è meno però il genere io gialli e fantasy io romanzi sì romanzi roba leggera storielle d'amore qualcosa che si leggi della mamma a volte ti si passa ti consiglia Valentina chi è la più bella buon divertimento ovviamente io chiaro non c'è dubbio grazie per averlo chiesto sempre Valentina a chi piace di più studiare allora siamo tre secchioni in generale allora siamo sempre andate bene a scuola però a nessuno è mai piaciuto proprio studiare no 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 ma ti ricordi quanto piangeva cioè ha riniziato l'università di sperare ok però comunque no il piacere dello studio no è un'altra cosa cioè sentivamo il peso dell'impegno della fatica insomma però tutte e tre ci siamo sempre impegnate ci siamo impegnate perché volevamo insomma dare il meglio di noi poi diciamo tipo io ora che ho iniziato a studiare non mi pesa quello no cioè è una cosa che faccio vabbè per occhiare nemmeno e vai inizi a studiare poveriggio sui libri ecco sì ilenia caratteri allora il mio impetuoso il mio tra le nuvole tra le nuvole ma è una cosa che mi piace perché poi mi dà anche hai detto che io te la invidio mi dà anche l'estro un po' artistico no quindi le vedo un po' collegate le tue cose io disponibile ci sta ci sta marino chiede avete una chat solo vostra se sì qual è il nome sì il nome sorelle belli io non me lo ricordavo sorelle belli sorelle belli Elena chiede chi tra le tre è la più estroversa la più ritardataria la più paziente bellissime perché queste corrispondono io sono la più estroversa lei è la più ritardataria e lei è la più paziente anche lei è molto estroversa anche te sei estroversa sì io sono un po' più però sei più ritardataria che tu ero in ritardo anche per questo video ma non per colpa mia questo giro cuore a cuore chiede che rapporto avete con i rispettivi cognati e suocere molto buono sì ottimo sì sono siamo fortunati perché non sempre va così quindi è vero The Scarlet Magnolia chiede che cosa e con quali lingue lavora Camilla curiosa perché sono laureata in lingue anche io allora io sono laureata in inglese francese poi ho studiato un anno di spagnolo però quello l'ho un po' abbandonato sinceramente e al momento sono appena diventata insegnante di francese in una scuola media e do corsi privati faccio corsi privati in inglese quindi lezioni private a dei piccoli gruppi ma mi crea c'è mai stata competizione tra voi? no no che ricordo no 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 per me no 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 io non mi sono mai messa in competizione ma a parte vabbè per le cose normali della vita no ma tipo anche per i voti mai no anzi noi siamo sempre contenti quando l'altra siamo sempre state felici per l'altra qualsiasi obiettivo io mi sono messa quasi mi sono commossa quando si aveva mandato il messaggio dicendo che te l'hanno preso sì è vero è vero un bel momento sì Lara chiedi il ricordo più bello insieme wow questo è difficile sai qual è uno che mi viene in mente l'ultima sera che abbiamo passato tutte e tre insieme prima che te ti sposassi che eravamo insieme nel lettone ci sono la foto nel lettere genitore a guardare un film tutte e tre insieme è stato un bel momento però altre cose perché mi vengono in mente anche cose che in cui magari c'erano anche altre persone tipo quest'inverno non si è fatto a pallate di nieve anche sì è stato un bel momento siamo andate a un paio di musical insieme noi tre e siamo stati molto bene un altro momento bellissimo il concerto di Ultimo lì eravamo solo noi tre è vero è vero grande Ultimo mamma mia io quanto ho pianto quando è finito sono stati veramente bene anche qualche cinema che abbiamo visto insieme noi tre sono stati alla fine sono esperienze di quotidianità nel senso un concerto un cinema o un film sul letto però quando siamo tutte e tre è diverso da essere tutti insieme esatto a stare sborne o a stare con le amiche quanto stanno a vedere a stare sborne io ancora mi ricordo perché altro di Ultimo nel concerto di Ultimo e a un certo punto mi girai e mi dicevi che piangevi perché quella canzone che ricordava l'ex poi facciamo per altri ex Denise aprireste mai sorelle un canale YouTube se sì che video portereste nel canale allora io in realtà ci ho pensato anch'io ora ma io so anche qual è il tuo perché ho iniziato a suonare l'ukulele è una cosa che mi piace e mi piacerebbe imparare sempre quindi musica sì riguarderebbe sicuramente la musica io invece ogni tanto ne parlo con lui con il mio futuro marito futuro maritino sarebbe bello per me invece aprirne uno più in ambito artistico quindi creazioni DIY Denise chiede anche voi amate e rispettate per quello che potete l'ecosistema come vostra sorella io ci sto provando sì ci stiamo provando sicuramente la sua dedizione verso questa cosa ha influenzato moltissimo anche me almeno stava dicendo proprio prima sì è vero per questo video che hai comprato un maglione ho guardato il cartellino dove era stato fatto insomma io da un po' più di tempo forse di lei ho iniziato mi sono fatta prendere un po' da questo argomento quindi la panne a un stucca a te a coppetta compro molto molti vestiti usati oppure cerco di guardare la provenienza i materiali lei ha lavorato in una scuola dove usavano plastica bicchierini di plastica così è come non ci fosse un domani per l'appunto e lei lo sentiva l'ha condiviso quindi sì dai ci siamo un po' attenti tutte e tre creativamente chiede quali parole storpiavate da piccole questo è divertente perché la Katia le storpia tutte io di me non me le ricordo mi piace a straggiare straggiare il formaggino nella minestra sarebbe spiaccicarlo oppure anche l'uovo con la sottiletta spiaccicare diciamo si trasformare un poltillo straggiare non mi ricordo andrebbe chiesto la mamma e papà non lo so non lo so nemmeno io scusa diciamo che le veline le meline ma quello era un errore non è che straggiare il termine inventato sempre creativamente chiede avete mai fatto uno scherzo ad una di voi se sì quale lei lo sa quale a me sei stata adottata cara sì vabbè quello è un classico vabbè per la sorella la sorella più piccola venga sempre no in realtà a parte questo quindi una volta dire alla sorella minore guarda che te sei stata adottata e poi per cioè preciso nella nostra famiglia c'è un'adozione quindi non è che si voleva in nessuna maniera diciamo alla piccola sì ecco esatto nessuno voleva dire che se era stata adottata era diversa o era inferiore però quando siamo piccoli queste cose si fanno quindi si sono state adottate dicevamo però poi di scherzi veri e propri non viene grosse cose no gavettone vabbè se così ma Wendy chiede tre aggettivi ciascuno per descrivervi più che tipo di rapporto avete tra voi e come si è voluto nel tempo io sono intelligente io so che sembra volersi dare però è vero mi ritengo una persona intelligente per me è un pregio sono contenta quindi intelligente intraprendente e sognatrice io paziente quello pazienza sono anche troppa paziente 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 simpatica paziente pizio stavo per dire però ci puoi ridere c'è paziente artistica paziente e artistica io mi direi buona 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 Oddio che caldo è fritto Mi sento le voce in piano Che crimine questa domanda Guardatevi una mano Buona Ballerina Non è un aggettivo Snodata Buona, socievole Socievole si Sognatrice anch'io Mini pony Ciao Ila, un bacio dalla tua ex compagna D'università Grandissima Che bello sapere che Segui mia sorella Che insomma sei presente Ancora nelle nostre vite Un bacione Lisa ci fate vedere Un video in cui cantate Ma cantiamo, non è che siamo Cioè cantiamo normati Ma come inizia? 5 6 Erano Innamorati due Coccodrilli Lei si chiamava Cocco Lei invece Drilli Vivevano felici Giù nel Marocco Lei sempre insieme a Drilli Lei insieme a Cocco Ed è così che questa Storia d'amor Arriva tutta un tratto Su una barca Un cacciatore Italia Adozioni È una pagina che si occupa D'adozione e chiede Vero che a Ilaria parlerai del concorso nazionale L'adozione fra i banchi di scuola Allora noi in realtà Io non lo conoscevo questo concorso nazionale Quindi ci informeremo Però in realtà ti parli dell'adozione Ti capita di parlare dell'adozione anche a scuola Assolutamente Assolutamente anche perché porto proprio la mia esperienza Avendola vissuta in prima persona Mi ricordo benissimo l'anno scorso E poi era anche successo da poco Quindi di aver raccontato ai bambini questa cosa Anche perché in realtà nei libri si trova spesso Riferimenti diciamo Alla famiglia Creata proprio dal bene Dal sentimento ecco Non tanto dalla biologia Esatto Ti è capitato di avere studenti adottati per ora? Sì un anno ho avuto Sì c'era in classe mia un bambino adottato Quindi in realtà Cioè In classe Se ne creano tante di situazioni In cui abbiamo modo di parlare di questi argomenti Io sono felice di poter raccontare la mia esperienza La viaggiatrice di Strattacad Descrivetevi l'un l'altro Utilizzando il titolo di un libro Oddio no Questa è dura è Io gente non ce l'ho con il titolo Io ce l'ho con te Mille splendidi soli Il titolo Perché te quando sei in un momento che sei felice Sei proprio un sole E' vero no? E' vero Risplende Quindi Mille splendidi soli E per te Harry Potter il principe mezzo sangue Mi sei stata adottata I love shopping con mia sorella Visto che ci piace anche condividere le esperienze Quindi quello è Sicuramente se avessi titoli davanti troverai qualcosa di meglio Però diciamo No primo Io e per te ce ne ho uno Vai Iliana Che te ne ho più d'accordo con lei Sì Ma perché ha un carattere diverso Molto Una grande ascoltatrice Sì Sì Sempre lei Cibo preferito Stagione preferita Colori preferiti Allora Cibo Io cibo A parte tutti i dolci del mondo Però La matriciana Cibo Assolutamente Dolci Qualsiasi E Pasta al pesto Pasta al pomodoro Stagione preferita Primavera Estate Estate Colore Mi piace Per vestirmi Mi piace tanto il rosso Però in generale Mi piace tanto i colori in generale accesi Infatti camera mia è piena di tanti colori Quella Giallo Verde Rosa rossa chiede Cartone preferito quando eravate bambine PS vi adoro Siete un trio fantastico Grazie Allora partiamo Cartone per la televisione Della televisione Insomma normale Per me era Sailor Moon Rossana Ma sai io forse direi Dragon Ball Lo guardavo sempre Mi piace tantissimo Io invece Sailor Moon Volevo essere Sailor Mercury Ci tengo a dirlo Perché avevo quella blu Con capelli blu E Invece per quanto riguarda i cartoni Di Disney Diciamo Pixar Così Io dico tue storie La Sirenetta Piedino Cioè la Valle Incantata Alla ricerca della Valle Incantata Alla ricerca della Valle Incantata Alla ricerca della Valle Incantata Però noi Perché nella cassetta Abbiamo scritto Piedino Quindi È Piedino Per noi Qual è una canzone che rappresenta il vostro legame? Con quelli Io mi ricordo solo di una canzone Che te mi dicevi quando la cantavi ti veniva da piangere perché pensavi a me Era quella di Bianca Z Era quella di Bianca Z Però Cioè poi sono comunque legata a situazioni particolari Cioè ci sono delle canzoni che ci dedichiamo nel momento in cui le sentiamo perché Siano legate a una certa situazione Per esempio io Quando ho sentito Giussi Se non erro di ultimo L'avevo dedicata a lei perché mi faceva tantissimo pensare a lei C'era una canzone del film Star is Born Che era nel periodo della fine della tua precedente storia Che mi faceva pensare a quello E quindi Esatto Quindi Legata a delle situazioni Però una proprio ufficiale nostra No La scriveremo Marta Pragotto ci fa un po' di domande La prima è chi cucina meglio? Ma io perché vivo da più tempo Cioè sono sposata da tanto tempo Quindi Più Cioè facevo schifo all'inizio come tutti Però ho avuto più tempo per agitare A che piacciono di più i bambini? Secondo me a te Cioè io la Katia l'adoro Però tanti bambini insieme Mi metto sempre in crisi Sì Lo faccio per lavoro È normale che mi devo un piacere Se no E poi chiede anche Come le hai detto che avresti adottato la Katia? Come hanno reagito? Cioè come ho detto a voi Che avrei adottato? Vabbè in realtà Il percorso dell'adozione È una cosa che ho condiviso Fin da subito con tutta la famiglia Ah però Allora parlando della Katia Nello specifico Particolare È successo questo Quando io ho avuto la telefonata Dove c'è stato detto dell'abbinamento Non sapevo nemmeno il nome Della bambina ancora Io ho con il mio marito Abbiamo progettato un modo per dirlo A tutta la famiglia insieme Che poi c'è il video nel canale Quindi vi lascio Esatto Bravo Grande Esatto Lasciamo il video dove si vede Quando l'abbiamo letta tutta la famiglia Ma essendo stata una cosa improvvisa Non tutti i membri della famiglia Potevano essere lì presenti E lei non c'era Perché tornavi a Firenze quel giorno Quindi lei è stata la prima in assoluto Che l'ha saputo Perché io sono andata in camera Le ho detto Ma te oggi rimani qui O riparti Perché se no volevo coinvolgerla nella sorpresa Lei mi ha detto No io devo ripartire E allora ha detto Guarda devo dirti una cosa Ci hanno chiamato eccetera eccetera No Mi ha detto Guarda devo dirti una cosa Diventerai zia Ah non mi ricordavo Diventerai zia E quindi Lei è stata la primissima a saperlo Questo è E' stato bello ovviamente E erano tutti molto contenti Denise Per tutte e tre Qual è stato il vostro momento più difficile e familiare Che tutta la famiglia ne ha sofferto? Io direi Quando è morto la Peggy Allora quando è morto il nostro cane Sì Quello tuo Marti Su cui ci ha sofferto più tutta la famiglia È stato all'inizio dell'adozione Quando te piangevi Vieni Basta smetto tutto Quando non abbiamo avuto la prima idoneità Anche questo c'è il video Eh Gli intoppi che avete avuto Diciamo che in generale quando succede qualcosa non di grave Però insomma Un pochino più pesante Sì Che fa soffrire molto una delle tre Lo sentiamo un po' tutti Sì Su di me non saprei Forse la mia storia precedente è stata quella che ha creato più Sì Sì perché non eri felice E poi è arrivato Gabriel Salvatore Sì Principe Azzurro Principe Azzurro Su un cavallo bianco Serena chiede Qual era il vostro gioco preferito da bambine? La maestra Giocavamo no? Sì tanto Anche quando si andava alla fiera dei camper Si Si prendeva tutti i Deppian Si faceva finta di essere delle venditrisi E' vero E' vero Ci è sempre piaciuto parecchio A me piaceva tanto anche quelle polypocket Che mi piaceva di essere No ma noi tre Penso in te Cose Tre insieme Questo era quello che ci accomunava di più Poi ognuna vabbè faceva Tra i suoi giochi si Però diciamo che Accudire Il gioco più comune tra le bambine Accudire un bambolotto Certo Che fossimo maestre Dottoresse Mamme C'era questa cosa Insomma Avevamo questi bambolotti Saretta chiede Siete state tutte adottate? E se si come è stato? Si Si No allora Forse c'è stata un po' di confusione Perché noi non siamo state adottate Io parlo di adozione perché io ho adottato Però no noi non siamo state adottate Se vi faccio vedere una foto della mia mamma da giovane E' lei praticamente Quindi E poi anche io e te ci somigliamo abbastanza Si si ci somigliamo Però potremmo essere noi sorelle E lei e le spalle Comunque no Siamo figlie biologiche dei nostri genitori Non che questo cambia in realtà Ecco però Assolutamente Finito Ragazzi il video finisce qui Grazie per l'attenzione Perché insomma è stato un video un pochino più lungo Ma spero che vi siate divertiti Che insomma Quanto ci siamo divertiti noi nel girarlo Ci vediamo prestissimo in un altro video con lei Ovviamente Comunque se volete altri video con le sorelle Mi raccomando mettete tanti pollicini Commentate Condividete il video Perché insomma Tutto questo aiuta a far crescere il canale E noi creeremo Faremo la posta del cuore Mi piace la posta del cuore Lo potremo fare E niente Noi ci vediamo presto in un altro video E vi aspettiamo nei commenti Ciao Ciao Perché Perché gli stacco le punze su Che fai ridere Ma guarda cavolo quanto è Vabbè anche me mi ci arrivi Ma guarda Stai normale Ma scusa Stai senza mani Cioè vedi Tenti quanto si riesce senza mani Stai normale Stai normale Sembra finta Oddio che fa di guacce